Anche quest'anno in tantissimi si sono recati alla casa della Befana a Pegnana, nel comune di Barga. Nel giorno dell'Epifania la pioggia nel pomeriggio ha concesso una tregua e grandi e piccini hanno potuto così raggiungere la casetta in legno nel bosco dove vive la vecchietta, che ha dispensato doni ai più piccoli ed ha raccontato l'impegnativa nottata passata a distribuire regali nonostante il maltempo. Certo devo fare un bel viaggio, quanto devo volare per portare questi doni? Questa notte è stata notata impegnativa, poi pioveva, mamma mia che difficoltà, guarda una difficoltà, meno male che qualche bimbo mi ha lasciato il biscottino fuori dalla porta, mi hanno lasciato anche il latte caldo. Alla fine la Befana prima di portare via tutte le feste come da tradizione ha fatto un augurio anche ai più grandi. Che sia un anno pieno di tanta serenità, nient'altro, basta avere tanta serenità, sarebbe già tanto anche quello. Soddisfatto Pierluigi Tortelli, presidente dell'associazione Perché la tradizione Ritorni, che promuove l'iniziativa. Praticamente lavoriamo tutto l'anno perché una cosa o l'altra cerchiamo sempre di tenere viva questa bellissima tradizione che Babbo Natale vorrebbe fussuccare ma credo che non ce la farà.